Ciao a tutti di nuovo, vorrei presentarvi la mia ultima creazione. I pirati di Puerto di Lega e la maledizione della polena. Questa è la storia di Paco, un giovane ragazzo che vuole assumere degli ex pirati oramai in pensione per aiutarlo a ritrovare una polena magica rubata da una nave. E dopo aver convinto il famoso Capitan Gennaro a riprendere il suo ruolo, tutti assieme partiranno per un viaggio ricco di avventure. Allora, questo qua ragazzi è una meraviglia. Buon divertimento e buona lettura. Ciao! 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 Ciao!